Avere più spazio in casa e non doversi più sentire assoffocati per cumuli di roba che non si sa dove riporre è il sogno di molti, ma nel video di oggi ti darò lo spunto per alcune idee ingegnose per sfruttare al massimo il tuo spazio in casa. Quando si ha tanti ospiti in casa è necessario avere un buon numero di sedie per ospitarli tutti a tavola, sappiamo bene però quanto siano ingombranti, partendo da questo problema un'azienda ha ideato una panca salvaspazio, vista così sembrerebbe adatta per sole due persone, ma una volta scomposta è possibile aggiungere altri pezzi per ospitare un totale di ben sette persone. Non solo permette di salvare molto più spazio rispetto alla classica poltrona, ma offre una comodità degna di muo reale. Con Gravity Balance è possibile sperimentare l'assenza di gravità e la quintessenza del relax. In posizione completamente reclinata, le gambe vengono sollevate sopra l'altezza del cuore e così è possibile dondolare dolcemente e vivere una sensazione di assoluta assenza di peso. Lo schianale ed il poggio a testa sono stati progettati per abbracciare la parte posteriore del corpo e offrire un profondo senso di benessere. Ovviamente i poggi ai piedi sono la ceggina sulla torta e rendono questa sedia un vero tocco di serenità. Probabilmente il muro che frena noi incalliti compratori è il prezzo. Infatti per una sede di questo tipo sarà necessario sganciare ben 1999 euro. Quest'idea è geniale perché può aiutarci a sfruttare l'immenso spazio che si ha a disposizione sotto le scale. Nelle case americane oppure nelle nostre villette ai più piani di solito ci sono le scale. Sotto di esse però rimane uno spazio spropositato e lasciato in disuso. In poche parole quei metri preziosi vengono sprecati. Ecco quindi che molti stanno adottando la strategia di riporre sotto le scale degli scaffali o degli armadietti in cui appoggiare i propri oggetti personali. È possibile abusare di questo spazio per trasformarlo anche in una fascinosa libreria. Con l'aumento drastico della popolazione anche lo spazio negli appartamenti si fa sempre più esiguo. Quindi per poter rendere pratica un'abitazione di circa 40 metri quadrati è necessario mettere in moto il meccanismo dell'ingegno. Ori Studio Suite è un sistema che reinventa il modo in cui noi sfruttiamo lo spazio. Grazie alla potenza della robotica Ori moltiplica l'efficienza e la vivibilità della propria dimora. Il tutto è possibile in tre semplici modi. Si può usare il quadrato magico Ori, si può usare uno smartphone oppure mediante Google Home o Alexa. Basta dire ad Alexa di estendere il letto e in pochi istanti saremo pronti ad andare sotto le coperte e coricarci. Il sistema è molto intelligente e se rileva per caso un ostacolo lungo la strada si ferma all'istante. Questo non è solo un tavolo di alta classe, super elegante e di ultima moda, ma a mio avviso potrebbe essere un buon nascondiglio per gioielli e altri oggetti preziosi. Vedendolo così nessuno direbbe che al suo interno ci sia uno scomparto segreto. Con un piccolo gesto è possibile aprirlo, riporre all'interno qualsiasi cosa e può richiuderlo senza destare alcun sospetto.